Bologna ha una maschera, che non è la maschera di Puccinella, quella di Napoli ad esempio Basolini, che è di Bologna, pagano Toto, parte europeo, napoletano, si sa, a Puccinella sono di clown e Toto è una marionetta, come direbbero a Bologna, marionette non bayonette ma a proposito di B di Bologna, B di Bayonette, direi che la maschera per antonomage di Bologna è sicuramente Balanzone, questo panzone saccente, saccente che non è propriamente positivo diciamo come termine, non è un'espressione diciamo lusinghiera, è canzonatoria, diciamo così dire quasi derisorica, è un personaggio irrisorico che se la suona se la canta o se la canta se la suona, perché avrebbe difficoltà anche a conoscere i detti di cui lui comunque è esperto, lui vive di frasi fatte, di stereotipie e di luoghi comuni, assolutamente allora, Balanzone, io me lo immagino come un signore di una certa età naturalmente, che non ha mai vissuto veramente la sua esistenza e era avido di lusurie, voleva una vita lusuosa, una vita diciamo di lusso, come di Bazzu, e di Bazzu, e di Bazzu, e di Bazzu, ma è Bazzu Bazzu, e avete presente quel personaggio dell'avvocato del diavolo e quindi chiediamo, ah, dal Pacino no, no, chiediamo, adesso interverrà, Pacino doppiato da Giannini di The Devil's Air, ok, come lo vede lui, questo panzone, ah, balanzone, di personaggi così ce ne sono tanti, infieriscono sulle giovinezze, perché oramai il loro fegato è amato, e anche quando vanno al mare, rosicano, di invidie, insopprimibili, i loro rancori sono irreversibili, guardano le ragazze che non possono più farsi, perché loro certamente non vogliono farseli, ah, 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 e sentenziano sulle gioventù, sulle vite altrui, e non soltanto su quelli giovani, neanche su quelli di 40, 45 anni, loro arbitrariamente emettono giudizi che hanno dell'aberrante, perché sostanzialmente Balanzone, che è di Boulagna, quindi non di Rimini, a differenza di quella riminese Federico Felini, ecco, lui cela molto con le vite fantossiane, alla fantossia amico di Filini, però diciamo che nella sua vita, oramai rimpiange il passato, una vita da Marcort e anche da Mar, la Mer, eh beh, eh sì, sostanzialmente non ha mai fatto niente questo qui, insomma, un lavoretto part time, alle due raggiacase, stravaccato sul divano e poi le cave di qua di là, di lingua marrone, da non confondere con du marron, ecco, che io uno così gli avrei cacciato du cefon, gli avrei deragliato la macella, ecco, sì, ecco, e poi se la tirava da gigante, gigante, io sono gigante, no, tu sei solo un pirla, con la fase da pirla, lei balazzone, sì, immaginatevelo sposato, ha una racchia brutta, fetente, che puzza, mamma mia, questa qua se la tirava anche lei da donna fintamente acculturata, ma stiamo scherzando, insegnante, attrice di teatro, sì, dei piccoli, dei nani, in qualche, diciamo, salone parrocchiale, mamma mia, insomma, una famiglia, non lo so, annettiamo anche i figli, ma ancora campano, non lo so, di persone disperate, che hanno cercato nella maniera più disparata, non dispararsi, avrebbero dovuto spararsi destra queste, che cazzo che hanno fatto, ecco, qua ci vuole la parlata della pulutena, ecco, minchio, poi, diciamo, qualcuno ha anche, diciamo, discendenza siculo, siciliani, oh, perché sono anche mafiosi, ma stiamo scherzando, oltre ad essere provinciali come Fellini, a parte da oggi vita, è tutta una grande bellezza, è che il cinema di Sorrentino, è questo film, è stata la mano di Dio, io ho partecipato, Doni Servillo, io Geppi Gambardello, perché sono amico di Paolo, io sono stato il tipo, in quest'Italia, dove tutti fanno i giganti, e poi criticavano Andreotti, no, il potere, l'ogro che non ce l'aveva, aveva ragione, e anche Sorrentino, per quanto mi sia amico, è un po' invidioso, penso che tutte le persone di potere siano degli stronzi, infatti ha ragione, però, ecco, troppo macchiettistico quel ritratto, per dirla alla Capuano, troppo nuance in quella recitazione di Dio Servillo in loro, nei vanni di Silvio Berlusconi, a Paolo, vai, vai lì, Mara Surrent, e saluto Massor, no, dicevo, poi, insomma, quello che volevo dire è che, beh, ma questo è il comandatore, eh sì, lui, beh, oh, ma queste sono delle rogne, però, delle carogne, eh, no, no, non perdonano mica, eh, eh, beh, questi notano tutto, e poi ci prendono anche in giro, ma le loro, diciamo, prese per il totò, no, per il popò, il loro sfottò, non sortiscono un effetto desiderato, eh, no, assolutamente, perché noi ce l'abbiamo i soldini, eh, eh, e noi sì che facciamo la dolce vita, mentre loro rosicano, sono frustrati, e poi si danno al cinema melodrammatico e nostalgico, passatista, alla pericolini, ora Paolo Surrentino, e questa è la verità, noi ce ne sono altri, eh, ma cosa ne pensa lei, Silvio Berlusconi, di Cheyenne, Sean Penn, di This Must Be The Place, che è la stessa frase, pronunciata, fra l'altro, da Raskol, Matt McConaughey, True Detective, This Is The Place, anzi, dice, qualcosa di cento, ma di che parla, no, questa è Gambardella, è Servilla, è Servilla, è stato Berlusconi, eh, diciamo che, eh, ma tu che cosa ti aspettavi? Mi aspettavo proprio questo, mi aspettavo proprio questo, io mi aspettavo che tutti questi bolognesi, eh, e questi siciliani, eh, sputassero poi il rospo, prima o poi viene fuori la verità, questi non sanno recitare, non sanno imitare Berlusconi, non saprebbero mai, non incantano nessuno, non sono incantevoli, basta col praticare suggestioni incantesime al prossimo anno, non saprebbero neanche recitare tre righe di un monologo di Al Pacino, ma non di The Dave Sabo che è l'avvocato del diavolo, di Seto Roma, ma stiamo scherzando, eh. Beh, Bologna, diciamo, ha una maschera, che non è la maschera di Cucinella, quella di Napoli, esempio, Pasolini, che è di Bologna, pagano Totò, parte rompeo, napoletano, si sa, a Cucinella, sono molti clown, e Totò è una marionetta, no? Come direbbero a Bologna, marionette, non bayonette, ma a proposito di B di Bologna, B di bayonette,